Ritorno, attenzione al gas Andate nella zona sicura Per rientrare dovete sopravvivere al culto alla numeria Ottenete punti per accelerare il conteggio Fate piazza pulita dei bersagli Sta arrivando un nemico Attenzione in alto Un nemico attivo Ho a malapena in piedi Avvistato Puoi tornare in azione Attacco a grappolo nemico Al riparo Uovi nemico attivo Uovi nemico attivo Nemico in arrivo nell'area Il gas vi raggiunge Cassa di scorte marcata Prendetela Sì Kaucke Cosa Sì 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 c'è un soldato nemico gas in arrivo c'è una nuova zona sicura UAV nemico attivo c'è un soldato Grazie a tutti. 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 Gas in avvicinamento. Nuova zona sicura. Sardi, pressi delle stazioni di acquisto ritoccati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è un soldato nemico. Versaglio dell'attacco aereo designato. Richiesta ricevuta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.